Ah, sorpresa, eccoci tutti, bene, che facciamo qua? Così, niente, da qui, tutti sul palco, così, tutti sul palco, invasione, 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 perché adesso i subordinati sono diventati di più dei capi e quindi insurrezione, insurrezione, si è ammutinato il freelance camp, ma Miriam non c'è Miriam, le ho scritto, adesso vediamo se riesce ad arrivare anche lei, Così almeno siamo tre, tre, dai, Miriam stai, è asimmetrico È andata a farsi un giro per Venezia, sta prendendo l'aperitivo su una terrazza veneziana e quindi non posso che invidiarla Invece io mi sto prendendo un vinello in uno sgabuzzino a Ponte Nuovo Ah, c'hai lo spritz? No, è... Operall preparato stamattina Professionismo, professionismo Con persino la fettina d'arancia Addirittura, ti sei portata l'arancia Io ho sempre le arance in ufficio perché come le abitudini, come giustamente dice Miriam, sono la base per mangiare bene, quindi... Pensavo che girassi da casa tua all'ufficio con l'arancia in mano che se ti ingabbiavano nel tragitto zona rossa avevi l'arancia in mano per il gabbione Bene Dai Anche questo freelance camp lo siamo portati a casa Ah, pensavo un'altra cosa Mi direbbe il milanese imbruttito Sembra che la piattaforma abbia funzionato molto bene No, sì, bello Giocando un po', visto che forse è il massimo che possiamo fare con la tecnologia Vorrei comunque fare salire sul palco anche Giulia Tosato che è anche lei da stamattina È anche abilessima La nostra regista Grazie Ciao Giulia, al prossimo freelance camp ci serve un altro talk tuo, no? Perché l'altro avevi fatto un talk di Camping Camp in cui parlavi del fatto, no? Del tuo percorso A questo percorso sei arrivata addirittura a fare la regia Sì, a questa forma avanzata del freelance camp online Cioè, tra un po' Grazie a solo a portare il freelance camp sulla luna Esatto, siamo pronti E' il prossimo obiettivo Bravi e brave tutti e tutte voi però perché grosso naturalmente del lavoro per ogni edizione è quello dietro le quinte Lo sappiamo bene, quindi applausi al team Applausi virtuali Io faccio un ultimo, faccio di nuovo un giro di ringraziamento davvero non retorico agli sponsor Che sono, insomma, quelli che ci permettono anche di continuare a portare avanti questa community MailChimp Che poco fa è stato per una mezz'oretta a parlare della community partner Che ci sostiene, e non solo ci sostiene con la sponsorizzazione Ma ci dà anche uno strumento ottimo con cui da anni portiamo avanti la comunicazione del freelance camp SiteGround, che è tra l'altro il nostro provider Sia come Digital Updater che come Freelance Camp E anche loro sono ormai diventati dei grandi amici Siamo davvero felici di continuare ad averli con noi Hyper9 Doc Servizi Che sono sempre pieni di stimoli e di idee Devo dire, io dico sempre che ciascuno trova la strada giusta per il momento che sta vivendo E la cooperativa effettivamente può essere per alcuni una opzione interessante Per continuare a lavorare da professionisti in maniera indipendente Ma con un po' più di tutele, con un po' più di rete di come facciamo noi Yoast, che ringrazio, una new entry nel nostro panel sponsor Banca Etica, che amiamo veramente tanto Apropoc, che abbiamo già ringraziato, ha gestito veramente questa giornata in maniera splendida Cristina Scaraffia, che ci ha supportati nella fase iniziale di creazione del nostro meraviglioso libro Il primo di una lunga serie Non so, forse Abbiamo talmente tante foto che hai voglia E poi con tutte le edizioni che verranno Hai voglia Hai voglia Roberto Pasini, Calamun, che spero ci stia seguendo da Parigi E se non ci sta seguendo porteremo il Clance Camp anche a Parigi E tutti voi di Digital Update Grazie, grazie, grazie E grazie a tutti e tutte voi che siete stati con noi da questa mattina Abbiamo ancora per un pochino open a disposizione Possiamo vederci nell'angolo caffè Possiamo chattare, possiamo fare networking I prossimi appuntamenti, ve li ricordo Il 23 aprile faremo uno Zoom Club Per chi sta nel Freelance Camp Club Cosa che dovreste fare perché ne vale veramente la pena Facciamo uno Zoom Club con Deborah Ugolini E parliamo di stare online, stare in video Quindi fare ancora meglio quello che già abbiamo fatto così bene oggi Ma questo, gli applausi registrati Dovete farmi gli auguri che gli ho avuto Sono io Hai gli applausi registrati No, li fa lui Agli applausi Gianluia Diegoli Non mi è venuto in mente prima No, dobbiamo farlo Al prossimo ci mettiamo come le sitcom americane Con le risate registrate e gli applausi registrati E' bello Uno scrive applausi nei commenti E io spigio Stiamo dando fastidio ad Alessandra Che sta parlando E vabbè ma ormai Sono mutinati E' andato A maggio faremo un altro Zoom Club Sul sito sicuro E lo facciamo in collaborazione con SiteGround A giugno Stiamo in campeggio Il 17 e 18 Giovedì 17 e venerdì 18 A Marina Romea Il villaggio del sole di Marina Romea Per un freelance camp Dal vivo Dal vero Ancora Incrociate tutto quello che avete da incrociare Ho solo il gatto castrato di fianco Era sottile Giulia Ma io Solo io potevo Cogliere al volo Basta A questo punto Dopo questo sbaccamento E ubriacatura di stanchezza Di nuovo Baci e abbracci A tutti E a tutte E a presto Dimmi quando mandare la sigla Sigla Allora mando la sigla Allora mando la sigla Ciao Sigla